Dopo il ricovero ospedaliero che c'è stato per Silvio Berlusconi è arrivato il momento di tornare a casa. Infatti pochi giorni fa era stato ricoperato proprio all'ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di tipo rutinario. Così il presidente del consiglio, l'ex presidente del consiglio, ha messo una foto nei social network e è apparso con uno sorriso smaiante però anche con una certa barbetta al volto. ringraziando tutti quelli che si sono adoperati in questi giorni per dedicare a lui stesso un momento o meglio un pensiero di piena vicinanza e di affetto. È tornato subito al lavoro affrontando i principali temi dei giorni a venire tra cui ovviamente gli impegni politici coadiuvati con Giorgia Meloni che vi ricordo l'attuale premier. È un volto abbastanza sereno, rallegrato, felice, giocoso quello di Berlusconi che si vede in queste immagini pubblicate nei social network. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di YouTube. È apparso forse un po' di magrillo a mio avviso ma è una mia opinione, spero di sbagliarmi. Ciao a tutti, una buona sera da buon giorno.